In carrozza, signori, si parte con il treno delle ville pontifice che ogni sabato collegherà l'antica stazione della città del Vaticano con quelle di Castelgandolfo e Albano, permettendo a tutti di visitare le ville pontifice di Castelgandolfo, uno dei luoghi più inaccessibili e belli della storia, aperti al pubblico per decisione di Papa Francesco. Se esiste al mondo una reggia inaccessibile, riservata, esclusiva, più del Cremlino di Mosca, più di Buckingham Palace, più dei castelli della Roira, più dei castelli di Ludwig di Baviera, questa è stata nell'immaginario universale la villa estiva del Papa. I visitatori con un unico biglietto potranno così conoscere i musei e i giardini vaticani e poi andare a visitare in treno, attraversando il territorio degli stupendi castelli romani, l'altro Vaticano, quello di Castelgandolfo, aperto al pubblico per la prima volta per scoprire, oltre i giardini e i resti romani della villa di Domiziano, o l'Antiquarium, il primo piano del Palazzo Apostolico, dove prima c'era la Specola, l'Osservatorio Astronomico Vaticano, e ora c'è la Galleria dei Ritratti dei Pontefici, con i dipinti dei Papi, da Giulio II in poi, fino a un ammiratissimo Papa Francesco, e alcuni cimeli della storia vaticana, come una sedia gestatoria usata per trasportare i pontifici fino a Giovanni Paolo II, e la ricostruzione della Corte Pontificia. L'importanza di questa giornata di oggi è quella di aver realizzato un desiderio del Papa, felicemente regnante, che già l'anno scorso aveva espresso il desiderio, oltre all'apertura dei giardini di Castelgandolfo, anche del Palazzo. Questo luogo ha una sua peculiarità storica che chiude simbolicamente un anello, un anello che parte addirittura dalle origini di Roma, perché qui, in questo luogo dove oggi sorge il Palazzo Apostolico di Castelgandolfo, in origine ci stava l'antica città di Albalonga, città di Albalonga dove nacquero i due gemelli Romolo e Remo. Sono nati qua.